Vogliamo appoggiare questa iniziativa meritevole del trio Medusa Ribadiscono Cantare una canzone di Neck per contrastare questa mania di riprendersi I selfie si chiamano queste cose qui Con la bottiglia e tracannare Puoi andare in come tiri con queste schifezze E lanciare la palla a qualcun altro in una sorta di catena di Sant'Antonio Che giallo i cateni di Sant'Antonio Ragazzi, se a chi mi manda la roba Leggi questo messaggio e lo spedisci a 5 Ma veramente lo fulminerei vivo Però insomma l'iniziativa è molto bella e molto giusta Perché bisogna veramente frenare, anzi fermare totalmente Questa schifezza di la gara dell'alcol che è anche legalizzato E va veramente male Grazie al trio Medusa ancora per questa bella iniziativa Bisogna cantare una canzone di Neck Io non sono molto ferrato, abbiate quindi un po' di venia Alex per i star di là per la regia non puoi venire a sostenermi Mai fa il filmato, neanche lei Quindi sole soletto Direi che possiamo iniziare Cantando un altro ferito Appartonello di Lascia che io sia di Neck E sono contento di appartenere a questa bella famiglia Che fa queste belle iniziative Grazie mille Io non ti chiedo niente Il tuo saluto è indifferente Mi basta Ma tu non puoi più farmi Male da starci male Non vali più di questa luna Spenta Ricorda che Dicevi a me Everybody Lascia che io sia Oh yeah Il tuo brivido più grande Non andare via Sta attento Neck Sto arrivando io in classifica Accorciamo le distanze Ancora sì Nelle lunghe tese Trovi noi Io non ho confuso mai Lascia sconosciute Con le tue Basta Aiuto Per una buona calda Aiuto per di pezzi Adesso devo fare le nominees Ladies and gentlemen Perché ognuno di quelli che sono stati nominati Per cantare una canzone di Neck a scelta Per appoggiare questa iniziativa A sua volta deve nominare Qualche suo collega Della stessa medesima radio Quindi Radio Capital Per quanto vi conceda E qualcun altro di qualche altra radio Allora io partirei da qualcun altro Di qualche altra radio Che sono due amici da sempre E quindi siete nominati Marco Presta e Antonello Dose del Ruggito del Coniglio Nominati Non è che sono mizzo Andiamo alle faccende interne Ho detto faccio tizio Poi però deluso Caio Allora se nomino quello Allora ho fatto una specie di super gruppo E vorrei nominare L'interno di Radio Capital Dopo le copie famose Dolce Gabbana Bianche Bernie Morche Mindy Danny Benny E Mario De Santis Che farà il balletto Danny Ho detto Il nostro direttore Danny Il direttore Benny Del GECO E Mario De Santis Che fa un po' la cheerleader Ti prego Io non mi alzo presto Devo mettermi la sedia Perché devo capire A che ora E quindi i prossimi Saranno sicuramente loro Grazie mille E basta Come sono andato Fatto cagare Si è questo Oh 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 un po' la Grazie